Nello stesso consiglio dei ministri di qualche giorno fa ci siamo tornati a occupare anche dell'annosa vicenda del super bonus. Non è la prima volta che il governo si occupa di questa materia, abbiamo dovuto tornarci sopra per cercare ancora una volta di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti. Dunque partiamo da questo presupposto. Nell'ordinamento italiano ci sono sempre state misure che consentivano di scaricare dalle tasse opere di ristrutturazione, di efficientamento energetico, i lavori in casa. Sono buone misure, sono misure utili, sono misure che favoriscono il lavoro, sono misure che fanno circolare l'economia e anche il super bonus dal mio punto di vista, l'ho detto, lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili. Il punto qual è? Il punto è che la misura è stata scritta così male e fatta così male che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere. Perché? Il super bonus aveva sostanzialmente due grandi errori. Il primo era poter scaricare il 110% di quello che spendevi. Perché? Perché se ovviamente a me rimborsano più di quello che spendo, sarò tenuto a non controllare quanto spendo. Perché che cosa mi interessa? Tanto lo stato rimborsa. E questo ovviamente ha prodotto una serie di risultati, tra cui che i costi dei materiali sono lievitati in modo esorbitante e che la bolla piano piano si è confiata. È la ragione per la quale il nostro governo è già intervenuto portando il bonus dal 110% al 90%. Perché è ovvio che se io devo mettere un 10% di quello che sto spendendo sarò più accorto, più attento a guardare quanto spendo e a guardare se per esempio i prezzi non siano in alcuni casi lievitati senza motivo. Ma la seconda e più complessa questione riguarda il fatto che il super bonus ideato dall'allora governo giallorosso prevedeva la possibilità che il credito che io avevo quando facevo i lavori nei confronti dello Stato potesse essere cedibile. Cioè io lo potevo cedere a una banca, lo potevo cedere a un intermediatore finanziario, lo potevo cedere a un'impresa, lo potevo cedere illimitatamente e all'inizio senza alcun controllo. Addirittura all'inizio non era possibile su crediti che erano stati ceduti anche 10 volte risalire a chi avesse generato quel credito. Ora voi capite che un sistema del genere si presta un tantino alle truffe e si presta anche un tantino a creare una bolla che fa lievitare questo meccanismo. Risultato, il costo totale attualmente è di 105 miliardi di euro. E questo è interessante perché io ricordo quando qualcuno che aveva inventato questa misura fatta così andava in giro in campagna elettorale a dire che grazie a lui voi avevate gratuitamente potuto ristrutturare casa. Però c'è un problema che quando lo Stato fa una cosa non è mai gratuita perché i soldi che spende sono soldi dei contribuenti e quindi quando spende dei soldi da una parte li mette e dall'altra li toglie. Sapete quanto è costata per ogni singolo italiano? Circa 2.000 euro, poco meno di 2.000 euro. Anche chi non ha una casa, anche un senza tetto, anche un bambino, anche un neonato ha sulle proprie spalle la spesa di quasi 2.000 euro. Quindi intanto ovviamente la misura non era affatto gratuita. È una misura che ovviamente impatta oggi sulle casse dello Stato perché dove c'è un creditore? C'è anche un debitore e quel debitore sono i contribuenti italiani. Allora ovviamente questa cosa qui ha bisogno di essere sistemata perché intanto ci sono state moltissime truffe e di questo si è parlato ampiamente, ad oggi stimati circa 9 miliardi di euro di truffe, cioè di lavori che non sono stati fatti, di lavori che sarebbero stati fatti su edifici che non esistono, di ogni genere ovviamente di truffa possibile immaginabile e ovviamente è accaduto anche che la bolla si è gonfiata così tanto che a un certo punto chi aveva questi crediti, le aziende prevalentemente, non poteva compensarli più perché aveva esaurito diciamo la sua possibilità di compensare quel credito con le tasse e non riusciva più neanche accederli perché anche i cassetti fiscali delle banche, degli altri attori che potevano comprare quei crediti si sono chiusi e c'è gente perfettamente onesta che ha fatto dei lavori, che si è fidata dello Stato, che ha fatto quello che diceva lo Stato che si è ritrovata in mano con dei lavori fatti e dei soldi che non può prendere perché questo ha prodotto questa interessantissima misura gratuita che noi oggi abbiamo migliaia di aziende che rischiano il tracollo e quindi siccome l'abbiamo ereditato noi, noi adesso dobbiamo cercare una soluzione per evitare che migliaia di aziende rischino il tracollo perché qualcuno potesse dire in campagna elettorale che gratuitamente si ristrutturavano le case ed è esattamente quello che abbiamo tentato di fare ed è esattamente quello che stiamo tentando di fare. Quindi che cosa abbiamo fatto? oltre a portare il super bonus dal 110 al 90%, abbiamo già fatto una misura che consente di allungare da 5 a 10 anni il periodo consentito per smaltire questi crediti. Abbiamo fatto adesso un altro decreto che in buona sostanza fa alcune altre importanti cose. La prima, non consentiamo l'acquisto di quei crediti da parte della pubblica amministrazione. Quindi regioni e comuni perché alcuni si stavano attrezzando ovviamente nel tentativo di cercare della soluzione per farlo, ma c'è un problema che questi crediti hanno praticamente generato una sorta di moneta parallela e quella moneta parallela rischia di impattare sui bilanci pubblici in modo devastante e quei bilanci pubblici sono il bilancio dello Stato ma sono anche i bilanci degli antilocali e quando crolla il bilancio pubblico purtroppo questo impatta su tutti, anche sulle aziende che devono prendere quei crediti, anche su chi ha fatto il super bonus, anche su chi non ha fatto il super bonus, sui cittadini. Quindi noi dobbiamo da una parte difendere il bilancio pubblico perché altrimenti i risultati saranno drammatici per tutti. Dall'altra parte abbiamo detto che in futuro non sarà più possibile cedere quei crediti, cioè tu puoi continuare a usare la misura del super bonus al 90% ma lo puoi fare nella misura in cui te lo scarichi dalle tasse. Non puoi cedere il credito che hai generato ad un altro attore. Perché? Soprattutto perché questo è secondo noi uno dei modi più efficaci per aiutare i cosiddetti esodati del 110, cioè quelle aziende che sono rimaste in mano, quelle persone che sono rimaste in mano con dei crediti e con dei soldi per lavori fatti che rischiano di non vedere. E quindi dobbiamo facilitare l'acquisto di quei crediti, ma è ovvio che un credito nuovo, atteso che la misura del super bonus continua a generare circa 3 miliardi di euro di crediti al mese, che vuol dire che se noi lasciassimo l'accedibilità di quei crediti per tutto questo anno, alla fine di questo anno avremmo circa minimo altri 40 miliardi di euro, che signori vuol dire non avere i soldi per fare la legge finanziaria, quindi scordiamoci il taglio del cuneo fiscale, i soldi sulle famiglie, i soldi sul fondo della sanità, qualsiasi cosa vi venga in mente non si potrebbe fare. Ma soprattutto perché ovviamente chi deve prendere un credito preferisce farlo su un credito nuovo rispetto a un credito vecchio, invece noi vogliamo spingere il più possibile banche, società e tutti gli attori che possiamo coinvolgere a consentire, diciamo ad acquisire i crediti che sono già fermi, quei crediti cosiddetti incagliati, cioè quelli che non sono più compensabili e che nessuno vuole prendere, che quindi attualmente non sono cedibili. Per questo abbiamo diciamo bloccato per il futuro la possibilità di cedere quei crediti e abbiamo definito meglio la responsabilità di chi prende quel credito, perché in tutto questo essendoci state moltissime truffe su questa vicenda, ovviamente chi deve acquisire il credito ha paura di essere corresponsabile di chi eventualmente avesse generato una truffa, ma è ovvio che per carità se prendi il credito di uno e non sei neanche andato a controllare, non solo se i lavori sono stati fatti, ma se esiste l'immobile, come è accaduto, sei corresponsabile perché insomma un minimo di controllo va fatto, ma se tu alcune cose non potevi saperle, noi abbiamo fatto una norma che consente di dire stai tranquillo, per favore acquisisci il credito perché dobbiamo salvare queste aziende e questi lavoratori messi in una condizione tragica da qualcuno che evidentemente non era abbastanza serio nello scrivere questa misura. Quindi siamo intervenuti e continuiamo a intervenire, convocheremo tutte le associazioni di categoria, quindi le aziende coinvolte per capire che cosa altro possiamo fare per aiutarle, per dare loro una mano, per salvare queste aziende, per salvare questi lavoratori e per rimettere questa misura in un binario sensato, su un binario sensato. Perché ripeto, quando vi dicono che qualcosa è gratuito, poi rischia che non lo sia e se non è gratuito può diventare un problema. Questo è diventato un problema che noi stiamo cercando di risolvere.